Twilet Sparkle Io sono la principessa Twilight Sparkle e questa è casa mia, Equestria. Qui la vita è perfetta! Che cosa potrebbe mai andare storto? Brian, no! Il comandante Tempest! Direi di cominciare con la vostra resa totale incondizionata. Buon gioco da ragazza. Bello giocare. Ci serve aiuto per salvare Equestria. Cosa sta succedendo? Dobbiamo restare uniti. Facciamo vedere a questi poni come si fa! Sì, sì! Amicizia e fiori e poni e... Pinky! Confermi visuale su crema? Affermativo. Entro in azione. In gioco! No, no! È un paggio di suono! Termina dove non si fa! E a questo magari è il nostro carico di risposta.